Rinvenute 40 bombe del secondo conflitto mondiale nelle acque dell'isola di Pianosa, nell'arcipelago delle Tremiti, che ha portato a un'operazione di bonifica bellica. La Guardia Costiera di Termoli ha emesso un'ordinanza di interdizione del tratto di mare in un'area di circa 120.000 m2 vicino Pianosa, per permettere l'attività di verifica e capire se siano tutti ordigni o meno. Le acque di quella zona sono state già interdette alla navigazione dal 1972 con un'ordinanza della Capitaneria di Manfredonia. Durante il secondo conflitto mondiale, quel tratto di mare era stato interessato dalla caduta di numerosi ordigni. La società incaricata dal comune delle isole Tremiti effettuerà per i prossimi quattro mesi l'attività di bonifica bellica subacquea, impiegate nell'operazione la motonave Ariete 5BA 830 e due imbarcazioni a supporto. Già l'estate scorsa a largo di Termoli erano stati rinvenuti numerosi ordigni bellici presenti su un veicolo militare del secondo conflitto mondiale, fatti poi brillare in un'operazione condotta dai palombari del gruppo operativo Subacquea con l'aiuto della Capitaneria di Porto.